Ciao a tutti, mi chiamo Stefania, ho 17 anni e vengo da Roma. Una delle mie passioni è cucinare e mi piace tantissimo fare la carbonara. La cosa che mi piace di più del mio corpo sono gli occhi e la bocca. Ciao a tutte ragazze, votatemi perché voglio passare alla prossima fase e oggi mi sono divertita tantissime e voglio continuare. Grazie.